A Willow Coffee trovi cialde e capsule compatibili con vari sistemi, macchine da caffè, aromatizzati, marmellate e succhi di frutta bio, biscotti artigianali ed in esclusiva la cioccolata militare. Willow Coffee è a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 136. Si sono chiusi con una immensa gioia per la Campania i campionati italiani di categoria B e C della Raffa che si sono svolti in Umbria tra sabato 15 e domenica 16 ottobre. Luigi Bruno classe 2000 di Cava dei Tirreni in forza alla SD dei Cacciatori e Cristian Baselice classe 2002 di Sarno che veste la maglia della bocciofila Santa Lucia Sant'Alfredo si sono infatti aggiudicati il titolo italiano a coppia di categoria C. A suon di eccellenti giocate i due giovanissimi atleti si sono fatti strada nella competizione guadagnandosi l'accesso alla finalissima che domenica mattina presso il bocciodromo comunale di Perugia li ha visti contrapposti a Michele Coreggioli e Mauro Guidetti della società ferrarese. Baselice e Bruno sin dalle prime battute hanno preso il controllo di una sfida mai in discussione e dopo essersi portati avanti per 8-0 hanno suggellato la conquista dell'ambito titolo con il punto del 12-4. La manifestazione organizzata dalla società Sant'Angelo Montegrillo di Perugia con il supporto della FIB Umbria ha messo in palio complessivamente sette titoli italiani delle categorie del cosiddetto sport per tutti individuale coppia eterna della categoria B maschile individuale della B femminile individuale coppia eterna della C maschile la C maschile